Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con l'informazione locale di Radio Civite in Blu in questo mercoledì 20 maggio 2020. In primo piano allerta meteo di codice giallo diffusa dal centro funzionale regionale a seguito della segnalazione del Dipartimento della Protezione Civile. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio breve e temporale con quantitativi cumulabili da deboli a puntualmente moderati. Potrebbero investire varie zone della regione, compresi i bacini costieri sud, nella giornata di oggi. Diamo la cronaca incendio nel pomeriggio di ieri a Formia in zona Santa Croce che ha costretto l'intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco e anche dei carabinieri che hanno immediatamente riportato la situazione sotto controllo. A causa anche del materiale andato a fuoco si è sviluppato molto fumo in zona, l'incendio infatti sarebbe divampato in un deposito di legname. Paginata Covid, una bella notizia ieri dal bollettino giornaliero dell'ASL di Latina che ha spiegato come rispetto alla giornata precedente non si sono registrati nuovi casi positivi. Da nuovo coronavirus non si registrano neppure nuovi decessi e nessuno è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Goretti di Latina. Da inizio pandemia sono 533 i casi positivi riscontrati dall'ASL di Latina, 407 coloro che sono stati negativizzati, 32 i decessi e 30 i pazienti attualmente ricoverati. Si riparte con l'apertura delle spiagge anche con la stagione balneare, lo spiega direttamente il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano nell'intervista diffusa dal portale web h24rotizie.com. Ascoltiamo un estratto di quanto ha detto il sindaco e quali saranno le prime spiagge investite da queste importanti novità. Tra poco inizierà finalmente questa benedetta stagione balneare, il 29 è la data in cui la regione Lazio darà l'ok per la balneazione, noi sindaci potremmo decidere quando far iniziare ovviamente la stagione balneare. La nostra volontà è quella di individuare le spiagge dove è garantita la sicurezza e quindi pensiamo, la spiaggia di Sera, poi la spiaggia dell'Ariana, saranno le due spiagge nelle quali inizieremo già dal 29 con la balneazione. Rientriamo in studio per parlarvi di un'altra intervista che abbiamo raccolto nei giorni scorsi, precisamente venerdì scorso nel format lateofonico Zona Blu, quando abbiamo recuperato la testimonianza del presidente dell'Avis Provinciale di Latina, Francesco Marchionni, che ci ha parlato dell'importanza di donare il sangue anche in un periodo come quello che stiamo vivendo. Ascoltiamo un estratto dell'intervista che trovate in forma integrale, sempre tra i nostri podcast. Perché soprattutto in questa fase in cui siamo molto, purtroppo direi, concentrati su quelle che sono le tematiche legate alla gestione emergenziale da Covid, non dobbiamo dimenticarci che ci sono tante malattie croniche, molte alcune anche abbastanza gravi, come le ocemie, talassemie, emofilie, che sono malattie del sangue ma anche altre che necessitano di sangue quotidianamente. Quindi è importantissimo continuare a mantenere alta l'attenzione su anche la gestione di queste malattie, che non vanno assolutamente dimenticate, continuando a fare questa opera. Siamo in chiusura del nostro appuntamento con l'informazione locale. Vi ricordiamo che fino a domenica alle ore 18 saranno letti dei seminaristi dell'Arcidiocesi di Gaeta i messaggi scritti da Papa Francesco per le giornate mondiali, per le comunicazioni sociali da 2014 al 2020, messaggi che trovate sempre disponibili nei podcast e sulle maggiori piattaforme online come Spreaker, Spotify e YouTube. Per questa edizione è tutto, vi ricordiamo come sempre i nostri contatti, potete scriverci su WhatsApp al 348-888-1447, se preferite Radio Civita in Blu che c'è la gmail.com. Un saluto da Simone Ardone e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in Blu.